Sottosegretario qui per testimoniare la vicinanza del governo a un territorio ferito, come ha potuto vedere, come sta vedendo? Non è solo una testimonianza, è anche una presa di impegno. Oggi io sono qui in questa parte del Piemonte, domani a Cuneo, ma ci sarà anche il capo della protezione civile, il dottor Borrelli, insieme ad altri ministri stiamo registrando direttamente sul territorio quello che poi diventerà una dichiarazione di stato d'emergenza, un piano di opere di intervento immediato e un programma di spesa che naturalmente dobbiamo quantificare perché non possiamo andare per via spannometrica e generica, dobbiamo avere un quadro esigenziale ricostruito scientificamente grazie al lavoro egregio, voglio sottolineare, che stanno facendo i presidenti delle province, i prefetti e soprattutto i sindaci. Poi c'è un tema di programmazione perché il clima sta cambiando, gli eventi ciclici hanno raggiunto una ciclicità più breve. Quanto è successo l'altra settimana è qualcosa di terribilmente eccezionale, di straordinario, che ci chiama ad un lavoro di prevenzione molto più attento. E qui, insieme alla Regione che tra l'altro ha i poteri commissariali per gli interventi sul dissesto, sulla base delle risorse che lo Stato ogni anno attribuisce, credo che dobbiamo fare un punto anche di prevenzione per i prossimi anni. E lo potremo fare perché le risorse sul dissesto sono risorse importanti, sono risorse in parte già programmate. La domanda banale che si fanno le aziende e i cittadini è quando vedranno i soldi, no? Questa è un po' la domanda banale ma concreta. Non è una domanda banale, è una domanda concreta, al quale è giusto rispondere in maniera concreta e senza fare vane promesse. Il primo passaggio è la definizione di questo quadro di esigenze, che vale sia per le opere pubbliche, perché abbiamo visto delle infrastrutture che sono crollate, degli interventi di carattere pubblico, ma vale anche per le esigenze dei privati, dei danni che hanno subito le aziende e le famiglie. Questo quadro noi lo dobbiamo costruire, io penso al massimo in una settimana, per dichiarare lo stato d'emergenza e dar il via alla programmazione della spesa, che poi dovrà avere anche delle procedure accelerate, se del caso commissariali, perché si possa intervenire rapidamente e con celerità.